Ehi, salve ragazze e ragazzi! Ehm, bentornati a Let's Play Pigmin 2 con LBN Oh, Lethal Blade Ninja, per chi non capisce gli acronimi Ehm, allora Abbiamo finito il livello 7 in scioltezza, nel senso che abbiamo preso il tesoro e siamo fuggiti E qui c'era una complicata serie di puzzle Geyser velenosi, elettricità, fuoco, ragnetti di vario genere, eccetera Spero che non significhi che c'è uno pilio o un ragno macchina che ci aspetta Ma non mi sembra di ricordare che ci fossero Comunque, scendiamo al livello 9 questa volta, con i nostri 92 pigmin Soltanto 8 perdite, non ne ho creati di nuovi E vediamo cosa ci aspetta Brrrr, verrà Ho preso anche due tesori su questo livello Una zucca di Halloween anche Very interesting Livello 9 Come on, livello 9 Sembrano il livello di quelli pacifici Musica pacifica Niente nettare gratis negli angoli Aveva lo stesso in esplorazione No, non vado in esplorazione So cosa significa se vado in esplorazione Se vado in esplorazione incontro uno di quegli insetti da capovolgere E dopo non hai pigmin viola per farlo Quindi teniamone già uno in mano se serve Aha Io vedo cosa ti ho capovolto Bene Bevete boys Ultra piccante, no Ok Prossimo Uno d'oro Sparisce adesso Ok Sì credo che dopo tre capovolte Vengono Ridotti a inutili Voi ragazzi avete tutti il fiore? Mi sembra di sì Mi sembra quasi un livello da mamuta questo Oh You son of a bitch Va bene Due spray ultramari Potevo averne un terzo ma fa niente Non voglio rischiare altre perdite Uh se li ho da quegli insetti puzzolenti Qui c'è qualcosa A parte l'uscita Qui c'è l'uscita La discesa però Oh Sai che sei malvagio vero insetto puzzolente Sei malvagio ma Ti ho strappato lo stesso le tre gocce Chi ha vinto allora? Ho vinto io Bene Oh abbiamo fatto una bella riserva di spray In questo livello Non ne ho usato Sì ne ho usato uno Uno spray ultramaro per il coletto igneo Bene Quattro minuti Perfetto Livello dieci Aspettaci Livello dieci Non siamo ancora arrivati di sicuro A ventun tesori Quindi non è il livello finale Ho preso un bel po' però Fatti sotto livello dieci Noi siamo qui dietro Ok Ritentiamo lo stagno della morte Mamma mia Tana da incubo Ok Ora calma Oh Duda Duda Ok No Ok Ne ho mangiato uno Idrotalpa del manga Ok Ora aspettiamo il groin armato Aspettiamo che si avvicina Bang Si avvicini lei Ok Ok groin Vieni vicino 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 più vicino che poi più vicino Avvicino Oh la 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 Coso Oh la la Più vicino più vicino Più vicino Il progno Cosa Añ pupa Anima Cosa Ora informa Cosa Aspettiamo In piedi Juga La Пока See Sì Ok Quanti ne ho usati? Un po', non importa Ora Idrotaalpe Ok, i miei cari blu Ah, l'ha preso, eh Non assieme Non vi voglio assieme Qui c'è qualcuno che non c'entra Tu Torna da mamma Ragazzi, calma, calma, calma Taccato il nemico Ok Uff Troppi nemici differenti Rana Non si saltano i tronchi d'albero Non di mattina presto almeno L'eruptorino è finito laggiù Sommerso C'è qualcosa per me qua? No Oh la la Proprio voglio decuparmi di una medusa e di una rana assieme No, grazie Oh Dimmi che non ho abbastanza Abbastanza Portate questa cosa alla base Ok, 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 ok 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 Ok, ok, ok 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 Portate questo alla base Andiamoci nel prima possibile Bonk Bonk Cosa è sta roba? Talismano vitale Non so cos'è Non so cos'è Non mi interessa Ok Tutto bene Abbiamo perso solo due blu Che livello Che livello Mai più una roba del genere Comunque vi ringrazio di aver guardato questa parte In cui c'è stata una devastazione enorme Nel primo tentativo Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Dimostratemelo Se volete iscrivendovi Mettendo mi piace E commentando Niente Alla prossima Livello 11 Con Little Blade Ninja Pikmin 2 Olimar Tua madre Ciao 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 C'è la rana C'è la rana Cosa eliminiamo prima? Questo No 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 What the bullshit What the fuck What the fuck Two Oh La 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 What 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 Why Why this is happening to me Oh my god Oh my god Oh mio dio Oddio 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 Forse non ve l'aspetterete, ma rifacciamo il livello.